Per quanto riguarda l'avversario mi aspetto una gara diversa da quella che abbiamo affrontato a Torre del Greco perché è un avversario che ha un'interpretazione completamente diversa l'allenatore lo conosco bene avendolo affrontato l'anno scorso con la Pergolettese ed è una squadra organizzata, preparata ma della quale non mi aspetto sinceramente quel tipo di pressing mi aspetto una squadra più conservativa, un atteggiamento più conservativo, più di fase difensiva quindi dovremo adattare e avere molta pazienza, muovere la palla da destra a sinistra senza forzare perché poi sono squadre molto brave che quando si chiudono ti ripartono, ti fanno male e quindi mi aspetto una partita completamente diversa da quella che abbiamo affrontato la passata settimana Per quanto riguarda gli arrivi di Ciciretti e Terranova sono due giocatori per i quali il curriculum loro parla da solo non posso che essere soddisfatto di accogliere due giocatori, ne ha parlato già il direttore nei giorni precedenti l'arrivo di Terranova è conseguente all'episodio sfortunato di Biaggio della Predator del Greco quindi è un acquisto che non avevamo preventivato la situazione di Ciciretti è completamente diversa, è un giocatore che ha voluto mettersi in discussione è un giocatore che ha delle qualità importanti, è chiaro che sono due giocatori che non credo potranno essere utili nell'immediato per la condizione perché ovviamente sono giocatori che si allenavano individualmente però sono convinto che sia dal punto di vista che dall'esperienza, che della personalità, che dell'attaccamento alla maglia parla soprattutto di Ciciretti, potranno darci una mano da sfinda subito al di là dei minuti che troveranno in campo già a partire da domani La situazione del giocatore davanti alla difesa la conosciamo, in questo momento è un po' deficitaria è sempre una questione semplice perché abbiamo i due giocatori sui quali abbiamo puntato all'inizio sono Alfie e Agazzi per quanto riguarda il ruolo di play davanti alla difesa sono tutte e due con due problematiche completamente diverse ma non disponibili è chiaro che a quel punto bisogna trovare soluzioni alternative domenica e prima volta abbiamo utilizzato Cappellini per una scelta più tattica legata al fatto di avere un difensore davanti alla difesa credo che se devi far partita quel tipo di soluzione diventa un po' più rischiosa un po' più complicata e quindi non penso la ripeteremo una delle soluzioni alternative, a quel punto i giocatori di ruolo davanti alla difesa non ne abbiamo dobbiamo trovare una soluzione alternativa, Kubica è uno di quelli è un giocatore che secondo me quel ruolo lo può ricoprire molto bene per le caratteristiche che ha perché è un giocatore che ha struttura fisica, è un giocatore che ha piede è un giocatore che è molto intelligente dal punto di vista tattico nasce mezzala, nasce trequartista ma secondo me può lavorare molto bene davanti alla difesa è chiaro che è un giocatore che rientra, ha fatto la prima settimana con la squadra, con noi quindi non mi aspetto a grandi condizioni, è uno dei dubbi che mi tengo fino all'ultimo minuto so che se dovessi giocare dal primo minuto difficilmente potrei portare a termine la partita perché non avrà condizione, è una delle valutazioni che sto facendo e sicuramente anche nell'allenamento di oggi una soluzione proverò è un giocatore che davanti alla difesa secondo me ci può dare una mano sia nell'immediato che in futuro credo che le convocazioni come le ho fatte la settimana scorsa le rifarò e le farò per tutto il tempo in cui sarà in attrazione al Benevento ovvero voglio convocare giocatori che hanno il fuoco dentro giocatori che sentono la partita al 300% e queste caratteristiche le ho riscontrate sì dal primo giorno in Caric, in Erwin che ci ha messo grande volontà e quindi sarà sicuramente della partita, sarà convocato per quanto riguarda Andressi invece che devo dire sin dal primo giorno è stato un grande professionista nei confronti della maglia, nei confronti dello staff tecnico, si è sempre comportato da professionista ma la sufficienza in questo momento non mi basta, Andressi è sempre comportato da professionista in maniera sufficiente oggi io voglio il fuoco dentro e quel fuoco dentro l'ho visto in Caric, l'ho visto in tanti altri ragazzi in questo momento in Andressi è un pochino assopito e quindi credo che difficilmente sarà della partita